Ha preso il via al campus di Pratola Pellinna la quindicesima edizione del torneo di calcio giovanile Madonna della Libera organizzato dalla Virtus Pratola, società affiliata con la Roma. Nella prima giornata sono scesi in campo i piccoli amici nati nel 2009-2010 in gare di calcio a 5. Otto le squadre che hanno partecipato, oltre alla Virtus Pratola c'erano il Pratola 1910, il Raiano, la Pro Sulmona, il Luco, la Hop 2000 di Scanno, la Torre Alex e la futura di Cepagani. Il presidente della Virtus Pratola Giovanni Tofano. Quindicesima edizione, anche quest'anno un successo. Speriamo che il tempo ci favorisca perché le previsioni non sono rose, noi ci contiamo. Oggi sembrava brutto, invece guarda un po' che giornata, splendida per il gioco a calcio. Sono interessati tutti gli atleti delle categorie di base fino alla categoria di sordiene. Oggi diciamo è l'apertura, non facciamo classifiche, è la giornata più bella, ricreativa e ci sono bambini 5-6 anni, quindi è il top del top. Le varie categorie si alterneranno in diverse giornate fino al 15 maggio, abbracciando tutto il periodo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Libera, il presidente del comitato festeggiamenti Gian Lorenzo D'Andrea. Nel programma della festa c'è anche la valorizzazione dello sport ed in particolare del calcio a livello giovanile. Sì, diciamo che ormai da qualche tempo si propone questo torneo, sono più classi di bambini, è bellissimo vederli giocare, è sempre un'emozione, era impensabile non riproporlo per farli divertire. Sono qui da un quarto d'ora a vederli, è un'emozione unica, quindi penso che sia una delle cose più belle che abbiamo fatto con questa organizzazione. Proprio questo, diciamo il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda lo sport, cerchiamo di riproporre sempre questo bel torneo e ringraziamo anche chi viene a partecipare a questo torneo che ci permette comunque di dare visibilità alla festa e sia allo sport in generale. Quindi ringraziamo tutti i partecipanti e anche le squadre che vengono da fuori. Un piacere particolare per il presidente del comitato Gian Lorenzo D'Andrea perché è stato un grande calciatore, è un grande calciatore, è vero? Oddio, un grande calciatore, diciamo che ho giocato sempre a livelli direttanti, però ho iniziato proprio a quest'età, forse avevo quattro anni quando ho cominciato a calciare la prima palla e ho finito l'anno scorso, è un anno che non gioco più, quindi per me è una doppia emozione vedere questi bambini giocare veramente. Sono contentissimo di aver riproposto questo torneo, ringrazio soprattutto, come ha detto Pierpaolo prima anticipatamente, tutte le società che partecipano, soprattutto la Virtus con Simone Tofano che conosciamo, ho una passione innata per il calcio e per i bambini con le organizzazioni di questi tornei. Noi abbiamo iniziato in questo periodo per un semplice motivo, perché in questo periodo negli anni passati non vi erano tornei cui poter far partecipare i ragazzi, allora ho avuto l'idea secondo me buona di partire con questi ragazzini e adesso il torneo si è ampliato fino ad arrivare alla categoria esorgente. L'occasione è anche quella di fare il punto della situazione sulle attività che svolge nel corso dell'anno la Virtus Pratola a livello giovanile, volendo fare un bilancio di questo 2016 che bilancio possiamo trarre? Facendo come dice lei un bilancio noi abbiamo impiegato tutte le categorie dai piccoli amici fino agli allievi e secondo me con buoni risultati nonostante che il numero non sia altissimo. Silvio Libacco del Pratola 1910, allora un'occasione importante per promuovere le attività del calcio giovanile grazie a questo torneo che viene organizzato in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Libera. Torneo che deve servire per far divestare i bambini, mi preme fare questa sottolineatura perché più si sale di categoria e più succedono sempre più spesso cose non gradite. Oggi come potete vedere anche il tempo, forse la Madonna ci ha aiutato, ha spostato qualche nuvola, ha permesso a questi ragazzetti di giocare, divertirsi, correre, tirare il pallone che è qualcosa di fantastico vederli correre in mezzo al campo. È un bel torneo, noi siamo tanti anni ormai che veniamo qui a Pratola, siamo degli affezionati di questo torneo, anche perché è uno dei pochi qui vicino che si organizza in un certo modo, molto partecipato e piacevole, è una buona esperienza per i bambini, quindi veniamo volentieri.